Si combatte contro mulini a vento, perché è vero che l'80% siamo vaccinati, però gli altri no, e allora non se ne ricava le gambe. Entra in vigore oggi 6 dicembre il Super Green Pass, il certificato verde cosiddetto rafforzato, cioè di coloro che sono o vaccinati o guariti, sarà obbligatorio e potrà essere richiesto a campione anche nelle zone dei mercatini di Natale, dove ci troviamo in questo momento, quindi nella parte bassa della città, ma anche ovviamente nella parte alta, quindi Piazza Grande, dove ci sono tutte le iniziative della città del Natale e al Prato, così come verrà richiesto anche nei mezzi pubblici e ovviamente negli esercizi pubblici, bar e ristoranti. Cambia qualcosa per voi? Eh sì, limita molto il nostro lavoro, non sono d'accordo. I ristoranti, essendo locali al chiuso, il controllo da parte del gestore deve essere quello iniziale, quindi inizialmente chiederà il Green Pass a quello rafforzato prima della messa in tavolo dei clienti. Che cosa succede se chi viene fermato non è in possesso di questo certificato? La sanzione è sempre rimasta invariata, quindi la sanzione in riferimento è sempre di 400 euro, pagamento entro 5 giorni 280 euro. Invece nelle zone dove ci sono i mercatini di Natale, dove c'è comunque assembramento, quali saranno i controlli? Quelle nelle zone sono sempre stati come sono effettuati finora con la campionatura, quindi il personale è predisposto agli accessi, verificherà che è stato previsto già in precedenza, nel decreto legge precedente era previsto prima del 6 dicembre, quindi ci sarà un discorso di controllo a campione. Io bene ne penso, sono un po' arrabbiata con chi non porta le mascherine e con chi non è vaccinato.